Tra febbraio e marzo il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio a Maria Adriana Prolo, sua fondatrice. Direttore, come mai questa mostra per una persona così importante? Maria Adriana Prolo è la fondatrice del Museo Nazionale del Cinema, è una persona troppo importante per noi e quindi ne abbiamo approfittato visto che adesso sono il 20 febbraio e 30 anni dalla sua morte e quindi abbiamo pensato di rendere l'omaggio con questa piccola mostra, con questi ritratti sostanzialmente dove si vede la sua storia, lei da giovane e poi con queste splendide fotografie dal documentario di Segre e poi anche i suoi incontri più importanti con Hitchcock per esempio oppure con Fellini o con altri personaggi famosi. Come lo ha reso il Museo del Cinema? Maria Adriana Prolo lo ha immaginato, ha iniziato a collezionare tutti gli oggetti possibili e immaginabili sul cinema non soltanto i film in pellicolo come uno può immaginare ma anche e soprattutto le collezioni di pre-cinema e poi una collezione fotografica incredibile, cioè ci ha lasciato proprio una testimonianza molto importante che è diventata la base in pratica per costruire il Museo del Cina che vediamo adesso. Un'esposizione all'esterno del museo, come mai? Abbiamo pensato di fare l'esterno perché volevano rendere omaggio a lei ma soprattutto alla città cioè che fosse importante per la città vederla e riconoscerla. Io penso che Maria Adriana Prolo non sia soltanto una donna importante per il cinema e per il Museo del Cina perché senza di lei il Museo del Cina non esisterebbe ma è stata davvero una grande donna del Novecento, anticonformista, innovatrice, determinata, capardia che per rincorrere il suo sogno e la sua passione ha praticamente dedicato tutta se stessa e ci è riuscita in una maniera assolutamente incredibile. Penso che sia un esempio, un modello non soltanto per quello che ci ha lasciato ma un modello per i giovani ed è per questo che appunto abbiamo pensato di farla all'esterno. Grazie a tutti.